La Chiesa Niente porte blindate nella Chiesa perché la porta della misericordia di Dio è sempre aperta. È l'invito di Papa Francesco nell'udienza generale, oggi, la Chiesa sia riconosciuta in ogni angolo della terra come la custode di un Dio accogliente che non chiude la porta in faccia. Il 20 novembre ricorre la giornata dei diritti dell'infanzia, il Pontefice, proteggere i bambini e anteporre ad ogni altro criterio il loro bene e per la festa della presentazione di Maria Santissima al Tempio ringraziamo il Signore per il dono della vocazione di coloro che hanno dedicato la loro vita a Dio. Attraverso il passaggio della Porta Santa si possa divenire operatori di pace in un momento in cui ce n'è tanto bisogno. La preghiera del Cardinale Arciprete Comastri ieri sera durante la ricognizio della Porta Santa della Basilica Vaticana. Un giubileo per la pace anche in Siria, padre Firas Lutfi, francescano, il nuovo parroco latino di Aleppo, la chiesa di San Francesco scampata alla strage un mese fa. La sfida per l'educazione cattolica, un'identità cristiana in uscita. Il professor Fiorin, direttore dell'alta scuola formazione della LUMSA, sul convegno internazionale Educare Oggi e Domani, una passione che si rinnova. Al via oggi in aula Paolo VI in Vaticano. La chiesa dovrà essere riconosciuta in ogni angolo della terra come la custode di un Dio che bussa, come l'accoglienza di un Dio che non ti chiude la porta in faccia, con la scusa che non sei di casa. Così Papa Francesco ha concluso la sua catechesi nel giorno in cui ha voluto parlare del giubileo della misericordia ormai imminente. Davanti a noi, ha detto, sta la porta, ma non solo la porta santa, la grande porta della misericordia di Dio che accoglie il nostro pentimento offrendo la grazia del suo perdono. La porta è generosamente aperta e ci vuole un po' di coraggio da parte nostra per varcare la soglia. Dal sinodo dei Vescovi che abbiamo celebrato nello scorso mese di ottobre, tutte le famiglie e la Chiesa intera hanno ricevuto un grande incoraggiamento a incontrarsi sulla soglia di questa porta aperta. La Chiesa è stata incoraggiata ad aprire le sue porte per uscire con il Signore incontro ai figli e alle figlie in cammino, a volte incerti, a volte smarriti, in questi tempi difficili. E se la porta della misericordia di Dio è sempre aperta, ha proseguito il Papa, anche le porte delle nostre Chiese, delle nostre parrocchie, devono essere aperte, perché così tutti possiamo uscire a portare questa misericordia di Dio. Il Signore non forza mai la porta. Anche Lui chiede il permesso di entrare. Ma il Signore chiede il permesso, non forza la porta. Il libro dell'Apocalizzi dice «Io sto alla porta e busso». Ma immaginiamoci il Signore bussando alla porta del nostro cuore. «Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me». Ci sono posti nel mondo dove le porte blindate sono diventate normali. Non dobbiamo arrenderci all'idea di dover applicare questo sistema, che sì, è anche di sicurezza, ma non deve essere presente nella nostra vita, nella vita della nostra famiglia, delle città, della società. E tantomeno nella vita della Chiesa. Sarebbe terribile. La porta dice molte cose della casa e anche della Chiesa. La gestione della porta richiede attento discernimento e al tempo stesso deve ispirare grande fiducia. Il Papa ha voluto ringraziare quanti custodiscono i nostri condomini, luoghi delle istituzioni civiche e le stesse Chiese. C'è da imparare da questi uomini e donne che sono custodi dei luoghi di incontro e di accoglienza della città dell'uomo. In verità sappiamo bene che noi stessi siamo i custodi e i servi della porta di Dio e la porta di Dio ha un nome, si chiama Gesù. Egli ci illumina su tutte le porte della vita, comprese quelle della nostra nascita e della nostra morte. Noi dobbiamo passare per la porta e ascoltare la voce di Gesù. Se sentiamo il suo tono di voce, siamo sicuri, siamo salvi. Possiamo entrare senza timore e uscire senza pericolo. La Santa Famiglia di Nazareth sa bene che cosa significa una porta aperta o chiusa per chi aspetta un figlio, per chi non ha riparo, per chi deve scampare al pericolo. Le famiglie cristiane facciano della loro soglia di casa un piccolo grande segno della porta della misericordia e dell'accoglienza di Dio. Prima dei saluti in italiano, il Papa ha rivolto due appelli, uno in occasione della giornata Proorantibus che si celebrerà sabato prossimo nella memoria liturgica della presentazione di Maria al Tempio e l'altro in occasione della giornata mondiale dei diritti dell'infanzia che si celebra venerdì 20 novembre. In riferimento a chi vive la propria vita nel silenzio di un monastero il Papa ha voluto ringraziare per il dono della vocazione di chi nei monasteri e negli eremi dedica la propria vita a Dio. Per la giornata mondiale dell'infanzia il Papa ha detto «È un devere di tutti proteggere i bambini e anteporre ad ogni alto criterio il loro bene affinché non siano mai sottoposti a forme di servitù e a maltrattamenti e anche a forme di sfruttamento. Auspico che la comunità internazionale possa vigilare attentamente sulle condizioni di vita dei fanciulli specialmente là dove sono sposti al reclutamento da parti di gruppi armati come pure possa aiutare le famiglie a garantire ad ogni bambino e bambina il diritto alla scuola e all'educazione. Attraverso il passaggio della Porta Santa si possa divenire operatori di pace in un momento in cui ce n'è tanto bisogno. Questa la preghiera del Cardinale Arciprete, Angelo Comastri, ieri sera durante la cerimonia del ricognizio della Porta Santa della Basilica di San Pietro alla presenza del Maestro delle celebrazioni liturgiche del Papa, Monsignor Guido Marini e del Presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, Monsignor Rino Fisichella. Dopo la preghiera del Cardinale Arciprete che ha guidato la processione del capitolo della Basilica e la munizione di un cerimoniere, quattro sanpietrini hanno abbattuto a colpi di piccone il muro che sigilla la Porta Santa all'interno della Basilica estraendo la cassetta metallica custodita dal momento della chiusura del Grande Giubileo dell'anno 2000. Cassetta contenente i documenti dell'ultimo anno santo, tra cui la chiave che consentirà di aprire la Porta Santa, le maniglie, oltre alla pergamena del Rogito, mattoni e medaglie commemorative. Dopo aver pregato all'altare della confessione, il corteo processionale ha raggiunto la sala capitolare dove la cassetta metallica estratta dalla porta è stata aperta con la fiamma ossidrica. Il Maestro delle cerimonie liturgiche del Santo Padre, Monsignor Marini, ha preso in consegne i documenti gli oggetti della ricognizio. Il contenuto verrà consegnato a Papa Francesco assieme a quello delle cassette delle altre basiliche romane come quella di San Giovanni in Laterano, la cattedrale di Roma, la cui Porta Santa è stata la prima ad essere smurata lunedì pomeriggio alla presenza del Cardinale Vicario Agostino Vallini. Giovedì 19 la stessa cerimonia si svolgerà a Santa Maria Maggiore e lunedì 23 a San Paolo fuori le mura. Fin da questo momento preghiamo per tutti coloro che attraverseranno la Porta Santa nell'anno della misericordia. Aprano veramente il cuore alla misericordia di Dio e diventino operatori di pace in un mondo che ha tanto, tanto bisogno di pace. E accostiamoci anche noi con fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia sapendo di avere un avvocato presso il Padre, Cristo Gesù, agnello immolato per la nostra salvezza. Questa la preghiera del Cardinal Comastri. L'8 dicembre si apre la Porta Santa anche in Siria, ad Aleppo? Sì, sicuramente si aprirà e si aprirà questa Porta Santa nella nostra chiesa francescana di San Francesco. quella chiesa che è una delle pochissime chiese rimaste in piedi, però quattro settimane fa purtroppo abbiamo avuto durante la Santa Messa, durante la separazione eucaristica, dove ben più di 400 fedeli insieme ai concelebranti hanno avuto un attentato. Cioè la nostra cupola della chiesa ha avuto un razzo che ha bucato la cupola ma non è esploso. Allora il Signore ci ha risparmiati una grande strage e il parroco, ricordo, ha commentato così questo fatto che il manto della Madonna è stato a proteggerci. e quindi noi speriamo appunto in questo giubileo straordinario convocato da Papa Francesco che ha a cuore proprio la Siria, i siriani, i bisognosi, i sofferenti in Siria, nel Medio Oriente e in tutto il mondo, per dare una chance, una possibilità proprio di entrare dal cuore misericordioso di Gesù che è la riflessione, il riflesso del cuore misericordioso e tenero di Dio Padre che vuole il bene a tutti quanti, che tutti quanti siamo i Suoi fili. E poi certamente è una intensificazione delle intenzioni, delle volontà e invocazione a tutti quelli che hanno in mano anche la decisione, la sorte dei popoli di inserirsi in sintonia con il progetto di Dio che vuole il bene unicamente, solamente il bene a tutte le persone quindi Dio non è che vuole la guerra, non vuole la sofferenza degli innocenti però Dio anche ci chiede conto dove è tuo fratello, dove è la tua sorella allora speriamo davvero, ecco, con tutto il cuore che quest'anno del giubileo straordinario della misericordia porti davvero misericordia, porti pace, porti riconciliazione in quella terra che non ce la fa più e non si permette più e non vuole più appunto questo flusso di tanto sangue innocente assolutamente sì, la misericordia è la cosa più importante la cosa più necessaria che il popolo siriano attende da questo giubileo straordinario della misericordia Questo congresso internazionale si riflette sulle sfide per l'educazione nel mondo quali sono le sfide oggi? Le principali sfide identificate sono quattro la prima riguarda l'identità e la missione delle scuole e delle università cattoliche nel mondo la seconda sfida riguarda il soggetto, il protagonista, lo studente, l'alunno quindi il tipo di educazione che è richiesto e che cosa minaccia una certa educazione la terza sfida riguarda invece chi deve formare questo alunno e quindi gli insegnanti, i dirigenti, il sistema di selezione, di reclutamento, di formazione e la quarta sfida riguarda il problema di come scuole ed università cattoliche sono capaci di rispondere alle principali fragilità, alle povertà la sfida dell'inclusione, la sfida dei poveri L'identità cattolica dunque è uno dei temi al centro del grande convegno sull'educazione oltre 2.500 i partecipanti tra rettori, docenti di università e dirigenti delle scuole cattoliche riuniti sul tema educare oggi e domani, una passione che si rinnova con una preghiera per le vittime degli attentati di Beirut e Parigi e con il logo con fascia nera a lutto si è aperto oggi in Vaticano il congresso mondiale promosso dalla Congregazione per l'educazione cattolica nel cinquantesimo della dichiarazione conciliare Gravissimum Educazionis Quindi un confronto di enti educativi che vengono dai contesti più diversi che cosa si aspetta, che cosa verrà da questo lavoro? Una delle cose più interessanti è proprio che queste stesse domande trovano come rispondenti soggetti che vivono in contesti veramente diversi per fare solo rapidamente un esempio altra cosa è rispondere a queste domande dall'interno di un contesto molto secolarizzato e però di grande tradizione cristiana come il nostro come molti paesi europei altro è rispondere a queste stesse domande in paesi di forte pluralismo religioso come ad esempio l'India per fare un esempio oppure in paesi dove è assolutamente impossibile evidenziare, esplicitare la propria fede eppure si fa scuola cattolica in paesi islamici fondamentalisti noi abbiamo ricevuto risposte da tutti questi tre contesti Ecco, l'esempio, le parole la guida di Papa Francesco che tante volte ha parlato dell'importanza dell'educazione che cosa imprime a questo cinquantenario a questo anniversario del documento gravissimo Educazionis? Ma forse quello che emerge veramente come l'elemento più bello anche di questo lavoro dove si vede certamente la importanza che il pensiero, la parola e anche l'esempio di Papa Francesco sta dando è l'idea di una Chiesa che non si ripiega a difendere la propria identità come se fosse un bene prezioso da preservare chiudendosi in un fortino ma una Chiesa che capisce che deve reinterpretare la propria missione proprio rispondendo alle sfide di oggi reincarnandosi e quindi diventando capaci di creatività questa idea della Chiesa in uscita per dire così e quindi di un'educazione che punta ad affrontare con coraggio ma anche con speranza e non in maniera invece difensiva le sfide questo è un aspetto molto forte e direi ricorrente in tutti i contesti Prima pagina dell'Osservatore Romano con la data del 19 novembre 2015 assaltato un covo giadista blitz delle forze speciali a Parigi alle soglie del Giubileo Francesco invita tutti a mostrare il volto di una Chiesa aperta e accogliente davanti alla porta della Misericordia annullata da Nover la partita di calcio tra Germania e Olanda allarme in tutta Europa oltre 30 morti e 80 feriti in un attentato suicida nel nord-est della Nigeria ennesimo orrore firmato Boko Haram grazie a tutti